Al Piccardo si affrontano il Borzoli di Mr. Bollentini e il Little Club di Mr. Di Somma. Da un lato i padroni di casa riduci da un avvio lento in campionato con un solo punto conquistato. Dall'altro i rosso-blu secondi della classe grazie a due vittorie ed un pareggio. Comincia forte il Little ma non riesce ad affondare. Qui al quarto ci prova Raiola in acrobazia ma la palla è alta. Parti in sordina ma colpisce per primo invece il Borzoli al venticinquesimo. Carrubba cattura un pallone nel cuore dell'aria e lo gira in rete davvero opportunista. Padroni di casa in vantaggio al Piccardo. Rivediamo il replay. Passano 9 minuti e padroni di casa rischiano di raddoppiare con questa bordata mancina di Fedri ma Corallo fa buona guardia e blocca. Il secondo tempo comincia con la voglia di riscatto del Little Club. Prima il 51esimo Perego rischia sul lancio lungo dalla tre quarti dando l'illusione dell'autorete. Poi due minuti e mezzo più tardi invece Corallo a provarci con un siluro mancino respinto però da un attento cannavò alla sua destra. Ma è solo il perludio del gol. Sul calcio d'angolo seguente è Nardo a svettare insaccando la rete del 1-1 e andando a esultare verso mister di Somma in panchina. Rivediamo il replay. Il pareggio dura solo due minuti. Giusto il tempo che occorre a esibiti per involarsi sulla fascia sinistra e insaccare il diagonale che riporta in vantaggio i suoi. Prova a raddrizzarla al Little Club a 72esimo con questo tiro cross di Raiola che però sbatte sul palo e rimane in campo. Tutto rimandato all'ottantesimo quando il neo entrato di Somma verticalizza per Raiola il quale entra in area e batte cannavò con il mancino riportando così il rosso-blu sul pari. Nulla di fatto negli ultimi dieci minuti. Solo il tempo per l'espulsione di Pugioni probabilmente per qualche parola di troppo. Un punto a testa al Piccardo. La partita finisce quindi sul 2-2. Grazie a tutti.